passaggio è nulla passaggio è nulla passaggio? no passaggio? passaggio ti rendo un po' i motorini? no hai avuto un po' così? passaggio? no ma c'era tutto a premere non è come si fermava forse c'è un cliente forse c'è un cliente ma sono tutti infami in questo mondo allora siamo fermi qui alla fermata si fatti il recupero ragazzi ma che ci stavano passare? un cazzo ci ne ha aspetta allora Marco se passano quelle femmine ci troviamo la maglietta no puoi mi nascondere facciamolo lo so per i addirizzo e poi dobbiamo ci stanno i camion i camion non farei ci stanno aspetta perché fanno venire qua? si vede un cazzo si vede il video? eh si è il video no no si vede un po'